Buongiorno a tutti. Non sta certo a me ricordare il momento che sta vivendo l'Italia, l'emergenza sia sanitaria e potenzialmente anche quella economica che andremo a affrontare prossimamente. Io ho voluto fare questo video per in qualche modo dare un segnale di vicinanza di ACMI verso tutti gli aderenti e anche per raccontarvi un po' come ACMI sta affrontando questo momento di emergenza. Innanzitutto ACMI sta affrontando questo momento di emergenza nella massima responsabilità e nel rispetto delle norme e delle regole. Abbiamo deciso di mettere al primo punto la salute di tutti e fare in modo che la salute con un senso di responsabilità civica possa aiutare anche tutti i cittadini. Poi sappiamo anche che continuare a portare avanti un'associazione che vive di network, vive di incontri, vive di condivisioni, di esperienze in una situazione come questa è veramente molto complicato. Per questo abbiamo deciso di mettere sul campo tutta una serie di interventi che staremo qua a dirvi. Perché fare queste cose? Perché è vero che oggi stiamo affrontando un'emergenza sanitaria e ripeto è il primo punto, è la parte dove sicuramente tutti noi siamo molto più sensibili, ma sappiamo anche che alla fine di questa emergenza sanitaria ce ne sarà un'altra economica e nelle emergenze economiche la parte del credito commerciale è indubbiamente una di quelle che sarà maggiormente investita. Leggevo uno studio di Cervet che dice che se questa epidemia dovesse perdurare fino a metà anno le probabilità di default delle aziende salirebbero dal 4,9 al 6,8% e sulla base di questo possibile scenario il numero delle aziende salirebbe del 7,6% per cui dobbiamo essere tutti consapevoli finito questo momento cosa dovremmo andare incontro. Per questo motivo cerchiamo di continuare a dare tutti gli elementi, tutti gli strumenti e la vicinanza a tutti voi. La nostra associazione è fondata, ma come volevano appunto i soci fondatori, su decardini ben precisi, la formazione, l'informazione e la condivisione di esperienze. Sulla formazione non possiamo più fare formazione fisica, questo c'è impedito dalla legge, ma abbiamo approntato un sistema di webinar e per cui partiranno già i primi webinar formativi tra 26, 27 e 31 marzo. Sull'informazione abbiamo deciso di inviare due newsletter a settimana dove proviamo in qualche modo magari a dare delle indicazioni sui vari decreti che a pioggia ci stanno riempendo in questi giorni per cui anche che tipo di impatto possono avere sull'economia e sul nostro lavoro e nel nostro tempo delle newsletter dove diamo dei contenuti che magari erano quelli che avremmo parlato durante i nostri eventi o durante le riunioni dei nostri gruppi settoriali. E a proposito dei nostri gruppi settoriali, dove la loro attività era appunto quella di riunirsi, da domani partiranno delle riunioni settoriali, anche queste in via webinar. Poi dobbiamo affrontare anche degli impegni statutari, per cui abbiamo l'approvazione del bilancio il 28 aprile fissata alla riunione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio se riusciamo a fare la fisica tanto meglio, vorrà dire che siamo usciti dall'emergenza se non sarà così, noi una settimana prima dell'approvazione inveremo il bilancio a tutti gli aderenti e poi dopo faremo una votazione telematica. Chiudo con gli eventi, gli eventi che erano la nostra fiore all'occhiello per cui noi abbiamo il primo calendario è l'11 maggio, la crisi di impresa Banca Mediolano in Milano al momento lo diamo confermato, settimana prossima vi daremo un aggiornamento in funzione di quelli che saranno i prossimi decreti. Il 10 giugno Acme Day sole 24 ore, siamo con Fiera del Credito, siamo in stretto contatto con Stop Secret e con Fiera del Credito, noi ad anni ci lega questa partnership, io ritengo che le partnership vanno consolidate nei momenti di emergenza per cui insieme a loro e con loro stabiliremo quale sarà la soluzione migliore al fine di dare un servizio a tutti, per cui potrebbe essere che sarà confermato il 10 giugno o magari procrastinato, magari a settembre ma questo vi informeremo e sarà una decisione che prenderemo assieme a Stop Secret e a Fiera del Credito. 12 giugno Fiera del Levante in Puglia, speriamo di riuscire a farlo al momento è confermato e questo dipenderà anche molto dal senso civico di noi lombardi, se riusciamo a contenere l'emergenza al nord eviteremo magari la Puglia di essere travolta come è stata travolta la Lombardia e noi potere fare poi il nostro evento. Il 2 luglio in Unione del Commercio abbiamo organizzato un evento insieme alle altre associazioni a IECA, Haiti e Andalve con la partnership di Intertech e poi 30 ottobre il nostro congresso nazionale al momento è fissato su Parma e anche qua al momento lo diamo confermato ma sarà molto in funzione di quello che faremo con l'Achmi Day, per cui se cambierà la data e la data dell'Achmi Day potrebbe cambiare data barra location del congresso ma qua abbiamo sicuramente tempo. Io a questo punto voglio salutare tutti, vi voglio salutare con il claims che Acmi ha deciso di darsi per cui diffondiamo il senso civico e non diffondiamo il virus, Acmi non si ferma, buona giornata e spero veramente di potervi abbracciare tutti presto.